Musica 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 Ciao a tutti Benvenuti su Nathan Company E oggi Che c'è la? Che cos'è questo? Che ti ha messo? Mettete si vedono le mutande che schifo Sentite Arie ragazzi Sono pulite almeno? Si Allora Oh Mamma Prostagma Oh Ok Io ho preso la doccia C'è un morti torse C'è un morti torse C'è un morti torse Andiamo No Ma te Francesco è andato E' stato E' stato in un'ontano Ma te ricorderemo Butati 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 Butti da qualche parte Pesso 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 Esci dalla porta Dentro Esci dalla porta C'è un morti torse E' morto E' morto E' morto E' morto Cazzo Matteo Vengicevi Sì Mi dicevo L'ho aperto la porta L'ho aperto L'ho aperto Ok Cazzo Aspetta Aspetta Continuiamo In lato Vai Quale? Quale è nato? Tu muovi Ditti di voi Si stende bene Ok No Dietro dietro Qui? Ok Sì C'è qualcosa che sta dietro di voi E' uno stalker E' chi sta nascosto Andate 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 Che buono Ci vuole il magazzino Oh ok Ho trovato qualcosa Ma te? Ok Raggiungete Aspetta che vi raggiungo Ok State alle Ok Ok Dove neanche C'è lo stalker Mi stai giocando Se non so Che f*** Vai Andate 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 Tempo Inche Inche Nowi Inche Inche 差 Inche Inche I I I I I I Sì Ma come stai a chiedi giù? Jay? Ma te? Sì, è che è Eh, io sono caduto di sotto Ripeti Eh, si può, arrivi sulle pallino Tornare alla nave Ci provo No, non credo, non sento nulla Sto muovendo, passo Eccomi Va bene, è grande Unico sopravvissuto Sopravvissuto di sotto Come hanno fatto a cadere? Eh, nel buio Solo quello? Purtroppo sì, ho usato una chiave Avevo due secondi io Ok, vabbè Poteva andare peggio Morire, potevate morire tutti Madonna mia Credo che c'è un problema Perché non so Ma lei va se è bugato Cioè, qualsiasi è possibile Ma c'è ancora il bug dell'altro giorno Quando Maria si è bugato Sì Buona Vuoi c'è per una? Due mine qua C'è una torcia io C'è una chiave Che cazzo è questo? Airbrush Grande Bravissimo Bravissimo Oh Coffee mug E là c'è un easter egg Bisogna prenderlo quello ragazzi Prendo io, prendo io Ok Ok, io sono pieno però Quindi dovrei uscire Chi c'è il walkie donkey? Vieni con me Eh, io no Provo a uscire Esci dalla Fire Exit Ok, io e Jessica ci facciamo tutti Jay, informa a Matteo se vuoi Che sto tornando a una nave Ragazzuari Chi muore è l'aria Io c'ho coltito Tornati indietro Tornati indietro Indietro dice Ma non c'è Dice indietro Ok, vai a destra Destra Vieni qua Destra, destra, no La si tende di dritto, destra Ecco lì Sì, sì Chi è? Io sto parlando con me Erwem, non posso parlare con tutti Ah Sinistra Erwem, tornati indietro Elzer, tornati indietro Dovrebbe stare qua sotto Eccolo, sì C'è anche il ragno Ah Non vuoi vedere come si rimanga? No Ok, ti colpisce Tu dove sei morto questo lato Vieni qua E' morto? Chi è morto? Tornati indietro Ma chi è che c'era l'arma? Neh, ma è me M Ho trovato questo, Matteo Cosa? Ma che vieni adesso? AIA! Perfana, dupacop! Ho ancora due No! Eccolo Possono anche i rumori Andiamo Io gioco Guardi subito una trappola E fate attenzione Ehm 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 Tu l'hai visto? Non c'è niente? No, sono pieno Io sono pieno, vado fuori Milano c'è un cazzo, ho visto tutto io, c'è solo spot a me Ehm, allora c'è finito Eccoci Aspettatemi ragazzi Ecco I rinforzi Aspettami Eccomi eccomi C'è l'idro al giro che arriva Però qua si può girare tranquillamente Dov'è Sbocaman? Ah no, stupacco Vabbè, io vado a poggiare sto colpo Oh, ma il corpo? C'è l'è C'è l'è C'è l'è Ehm C'è l'è C'è l'è C'è l'è C'è l'è io tutto ho fatto tutto se la buonga fa buonga S la macchina? è arriva? dov'è? si e dopo andiamo a fa... eeehm non lo so eccolo eccola! madonna come la portiamo in giro questa cosa? eccomi ragazzi tagliate gas qui che non va si sono niente vai ma uno mi serve come vice vabbè intanto ancora francevini ancora è riso se ferme ma che è stata ok no no sta succedendo oh oh ma è aspetta allora park no reverse drive ok ok oh madonna ma sei pazzo ma mi hai ferito mi hai ferito sono morto quasi ok ma io non l'ho fatto in merda ma che è stato ok ma che è stato un rumore ragazzi che sta distruggendo oddio no regalo dietro 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 oddio non sto fuggendo ancora ancora reverse ma madonna la macchina oh madonna oh oh ma sta per esplodere ragazzi stavano c'è oh 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 l'ho fatto che cosa io ti direi vai dritto poi cibi a madonna aiuto 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 che cazzo è bene molto bene in veicolo vabbè vado un attimo no sono morto anch'io ma te mi sa che ho fatto sentire espressione perché li vedo che giocare guardi Grazie a tutti.